Buongiorno, buongiorno al vostro homeless, faccio un video velocissimo, guarda ho comprato le pizze, vediamo un po' se mi posso inquadrare le pizze alla milanese, non mi posso inquadrare dove le ho comprate le ho comprate qua, le pizze alla milanese proprio le pizze alla milanese le ho comprate, ora me le mangio, se ce la fa faccio un mukbang ok, ok, c'ho le pizze alla milanese buona giornale, se ce la fa faccio un mukbang